Non posso farlo qui. Fa che la cucina sia pronta per il servizio di domani. Per gli angeli. Sei tornato. La reverenda madre vorrà saperlo, ma si trova a Corvalar. Ti darà lì la sua benedizione. Sta andando tutto come predetto da Inarius. Presto sarà libero di fuggire da Sanctuarium e tornare nel paradiso a cui appartiene. Non posso farlo di fuggire da Sanctuarium e tornare nel paradiso a cui appartiene. Non posso farlo di fuggire da Sanctuarium e tornare nel paradiso a cui appartiene. Non posso farlo di fuggire da Sanctuarium e tornare nel paradiso a cui appartiene. Grazie a tutti.